Ciao ragazzi, oggi raccogliamo le olive, abbiamo già iniziato, adesso vi faccio vedere qualche cosa Ecco qua, queste qui sono le olive del primo albero che abbiamo raccolto Io le sto raccogliendo scalza, giustamente Allora, andiamo Ciao Camilla Ciao Cucciola, ciao mamma mia Allora, abbiamo messo un telo Questo telo è fatto apposta, praticamente è tondo e ha un taglio qui in modo da poterlo mettere tutto quanto attorno all'albero E mano a mano che le raccogliamo le spingiamo al centro in modo da non pestarle Allora, adesso stiamo riempendo le cassettine e vabbè ci sono un po' di foglie e speriamo che il frattorio non si lamenti troppo Guardate la nostra scimmietta arrampicata sull'albero che raccoglie le olive No, ma poi non è facile salire su quest'albero Quindi adesso non puoi né scendere né salire Dopo mi faccio prendere in braccio Ecco Siccome il combombolo, che è un rampicante, si era proprio avvinghiato all'olivo Stiamo rimuovendo un pochino dei filamenti, degli intrecci dalle foglie e dalle olive Altrimenti poi una volta che verranno spremute potrebbe andare in mezzo e non vorremmo compromettere il tutto Intanto sono arrivate anche le galline Camilla, non è per te Non è tuo, Camilla Andato Per quelli che ci chiedono se vanno d'accordo i cani con le galline, sì, abbastanza Grazie a tutti Allora, ecco qui Questa qui è la macchina con tutte le olive caricate È veramente stipata Nonostante la macchina di mio padre abbia sette posti Veramente abbiamo fatto un po' di fatica a farci entrare tutte quante Scusate per la luce, ma era praticamente notte Questa invece è la quantità di olive una volta scaricata dentro a questa enorme mastella Erano 230 kg di olive e hanno fatto 34 litri d'olio Eccole qui che le portano via e le hanno poi scaricate dentro a questo enorme contenitore Qui le lavano per eliminare tutte quante le impurità Ed ecco qua, finalmente l'olio esce dal macchinario e noi non potremmo essere più felici Un'emozione unica fare l'olio e siamo stati veramente felicissimi di averlo fatto Ed è, devo dire, buono Un po' perché è il nostro, un po' perché è veramente buono Io spero che il video vi sia piaciuto Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima Ciao!